Ciao a tutti amici youtubers, bentrovati dal vostro gradatore Gelosso 94 come vedete non sono sulla mia solita postazione infatti per chi mi segue su facebook avevo già informato tutti sul fatto che avrei iniziato una nuova serie non vi ho anticipato niente, vi ho detto soltanto che avrei iniziato una nuova cosa però in questa serie non sarò solo infatti sta arrivando il mio amico Just Matty era uscito un attimo a fare delle compere però è uscito da un bel pezzo e ancora non so quando tornerà ma grazie alla magia dell'editing e che ci fai qua? hai visto c'è un mago? eh sì ah sì te c'è un mago, hai fatto comparire potenza dell'editing ragazzi comunque vi introduciamo la nuova serie che stiamo per iniziare come sapete se seguite il suo canale sapete che sta trattando videogiochi in questo momento sta facendo FIFA 15 tra Barkers Premier League, Road to the BZ1 e spacchettamenti un po' le solite cose che si fanno un po' un casino eh sì quelle cose siccome abbiamo uscito a trovare un modo per collegare PS Vita con la PS4 vogliamo iniziare una nuova serie che per quelli che vi seguiranno sono sicuro che potrà piacere la carriera allenatore con la AS Roma ovviamente non l'Inter non ci provare non ti farò fare l'Inter comunque a parte i scherzi accettiamo anche queste cose a parte i scherzi inizieremo questa carriera con la Roma abbiamo tolto il calcio mercato estivo perché vogliamo che la squadra sia quella attuale senza fare troppi cambiamenti dopo dall'invernale in poi faremo tutti i movimenti di mercato e tutto quello che c'è da fare per adesso iniziamo subito con la prima di campionato Roma-Fiorentina speriamo di fare una bella stagione anche perché già per adesso stiamo a fa schifo nella realtà non voglio fa schifo non voglio vabbè diciamo che non siamo in un periodo fortunato però non voglio che sia così anche sulla Playstation quindi questa era una breve introduzione vi mandiamo subito a Roma-Fiorentina ben trovati a tutti stiamo iniziando la carriera di FIFA 15 con la Roma ovviamente siamo alla partita a Roma-Fiorentina come ho già anticipato prima partita di campionato questa è la formazione abbiamo messo Chita che è in forma mentre ci si è infortunato Manolas per due settimane mi sembra due settimane si sarà fuori al suo posto abbiamo messo Young Amiwa speriamo che non faccia cappellate come nella realtà per il resto formazione titolare solita eh lo so sei bellissimo a parte gli scherzi questa è la formazione speriamo di questa è la nostra prima partita che giocheremo insieme speriamo di non fare sfraceli e niente mi direi di iniziare yes si comincia speriamo di perdere no 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 come l'ha messa perché l'ha messa in quel modo oddio successo ma è ecco questo è strascellato da se impara con le tue nooo però fallo 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 non lo matto io oh no mi fia più e basta inquadrato nooo ma l'ha vista dietro fallo diavolo maiale non è possibile ma non è possibile ma non è possibile come al portiere gliela deviano davanti la faccia e con tranquillità la ferma si per i dubbi nooo fuori gioco non so essere fuori gioco ma che c'ha il tic abbiamo giocato bene fino adesso abbiamo fatto più tiri di loro però non è una bella partita fino adesso abbiamo avuto poco che sentiamo le parti però loro hanno giocato meglio adesso De Rossi si ma guardate il pimpone neto 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 ma nooo come è possibile eh rigore eh beh calcio di rigore calcio di rigore si e beh vabbè guardati Joaquin e calcio di rigore grande Germigno l'ansia sale ragazzi totti contro neto totti totti conini l'ansia sale ragazzi totti contro neto totti totti conini di valere s*** piacere non c'è no ma no no ma nio non è possibile ma ti ricorderai ma se quello ti rilisci a rigore ma non c'è ma non c'è ma non c'è no ma non c'è ma non c'è c'è c'entra ma sapere non è possibile dai ragazzi e da sto peccone dai 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 ma tutte da presi oddio ma come guardia destro un po' di destra un po' di destra un po' di destra un po' di destra un passaggio incredibile non ha fatto destra un passaggio di torti da opportunista vero 2 a 2 dai così c'è colpo di destra non forco 2 niente finisce con un pareggio la prima partita di campionato partita soffertissima anche se abbiamo fatto 10 tiri in porte loro 4 secondo tempo dominato eh secondo tempo nettamente migliore alla fine diciamo che è un pareggio che ci può stare alla fine perché loro hanno giocato bene nel primo tempo nel primo tempo rimane amaro in bocca perché quando abbiamo messo le due punte abbiamo giocato nettamente ma potevamo fare un altro gol ma sono comunque soddisfatto perché comunque soprattutto per me perché la prima partita che faccio con modalità difficile su PS4 di leggende PS4 comunque in due non è mai facile pagare la prima volta poi pian piano poi pian piano riusciremo a prendere a mestichezza a prendere di mestichezza siamo alla partita di Champions League questo primo episodio lo vorremmo lo vogliamo fare di due partite giusto per dare un po' il via dopo vediamo se riusciamo ad andare sempre due partite alla volta continueremo se no faremo una alla volta ma probabilmente continueremo a farne due ci aspetta Manchester City in casa partita ancora prima la prima partita serve sempre per dare il via a vittorie successive questa è la formazione sembra la stessa di Roma e Fiorentina non c'è nessun cambio vogliamo fare l'albietro l'albietro Eimo Wascherschneider 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 mmm è un dittatore questo qua darà ogni fallo darà rosso sicuro comunque questa è la formazione non partiamo con i favori del pronostico perché comunque sia io che soprattutto io siamo gli esperti a giocare in Coop il Manchester City è davvero un avversario temibile ma abbiamo il dovere di provarci vediamo un po' questa è brutta subito cominciare leggenda perché sennò non siamo dei figli dai guarda guarda che figli è difficilissimo contenere i citizens che sul gioco fifa non è che hanno tipo che i champions giocano male no attenzione subito guardate che qua l'ha fatto questo l'ha fatto a fare qualcosa attenzione Navas Chiesus Navas adesso l'accento 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 stanno soffrendo stanno soffrendo stanno soffrendo stanno soffrendo buono il gol i turbe incredibile guardiamo le turbe i turbe cross perferto come andiamo il nostro meraviglioso baciato di testa dai turbe grandissimo veramente dentro grande gol grandissimo grandissimo andiamo benediatissimo l'ha arrivato pareggio c'è il video no piedi a banana sembrava meglio piedi a bananone grande sarebbe un gol mamma mia un po un po un po un po che è qua ma qua è tu perchè sta fa qua perchè tutti così oddio a difesa tutti scomparci ma perchè succedono queste cose inutili proprio non vedi che andai fuori gioco mamma mia no perchè andai a vivo perchè no grazie a te da dio tu non puoi allargare per il perchè no no da che sfiga c'è morto adesso io da uno a uno buon risultato devo dire abbiamo sofferto con un'ottima squadra che ci ha messo anche in difficoltà devo dire ma nel complesso possiamo proprio di solito poi ce la siamo cavata che pian piano stiamo assimilando i controlli tutto il gioco tutto quanto spero che il video vi sia piaciuto mi raccomando mettete mi piace iscrivetevi ai canali a entrambi i canali ovviamente metto in descrizione sia questo sia quello Marte 93 del fratello mi scusate di dire una cosa scusate ragazzi se non sono su youtube in questo momento ma purtroppo ho tanto da fare con l'università quindi scusate ma a presto tornerò anch'io a far video insieme scherzi questo è tutto ci vediamo alla prossima parte qui da Giasmatte creatore di Giorosso è tutto bella ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti